Sì, cosa ne pensi? Sì, cosa ne pensi? Sì, cosa ne pensi? Dei contenuti chiaramente ambigui se non apertamente xenofobi? Io dico che è sempre legittimo che i cittadini abbiano la capacità di dimostrare le loro intenzioni e anche in questo modo di contestare. La cosa che si crede sia veramente da sottolineare e da condannare sono gli strumenti che sono stati utilizzati perché devastare comunque una struttura pubblica secondo me non è il modo migliore per poter dimostrare e fare in qualche modo ascoltarsi. Credo che quello sia un modo per imporre una linea e su questo io non sono assolutamente d'accordo. Grazie. 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 Non, 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 non. Non, ma siere non, non, non. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il se passe maintenant ? Non è calma in Tunisia, non è calma. Non è calma, non è calma. Qu'est-ce che hai studiato in l'università? Tu sei studiato? Oui, studiato in Tunisia. Qu'est-ce che hai studiato? Anglico. Quello anni hai tu? Vabbè, vabbè. Come ti chiamo? Fossam Adoni. Fossam Adoni, è il nome di Vanni. Fossam? Fossam. Fossam. Madame, mi chiamai la mia socia. Tu sei studiato in l'anglico? Oui. In Tunisia? Tu hai studiato in l'università? Non. Tu hai studiato in l'Italia? Non. Tu non hai studiato in Tunisia? Non. Tu non hai studiato in Tunisia? E tu hai studiato in Italia? Oui, per il lavoro. Tu voudrais rester ici? Ou tu voudrais andare in France? Aller in France. Exactamente. Ma famiglia. Ma socia. Ma socia. Ma socia ma socia. Ma socia ma socia. Come si chiama? Fatma La città? Paris Ah, Paris Ah, Paris Ah, vous êtes fatigués? 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 Non, non Et puis, combien de machines photographes, le journaliste et trop journalistes vous croire? Le journaliste aide-moi à Lambadouza Bien Il m'aide Ok, bien C'est sympa C'est bon 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 Oui, bien Ah, elles étaient à teller C'est bon Ils os sont bien C'est bon C'est bon Encore Encore Signore! 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 Siete partiti dimanche di Lampedusa? Sì, sul bateau dimanche abbiamo... Sì, sul bambino oggi mercoledì dimanche 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 e qu'è l'ultima l'ultima la mattina la mattina dalle mattine Sì, sì Hai scappati per problemi di lavoro? Sì, c'è problemi di lavoro, certo c'è il presidente che scappa non c'è lavoro però c'è cambiamento da fare in Tunisia Sì, cambia però noi non lavoriamo allora non so Hai parenti in Europa, in Caglia, Francia? Sì, speriamo Italia per me vuole lavorare in Italia Sì, non è che domani Sì Dio cosa domani è l'era ecco esco è l'era l'era la un forza l'era la 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 l'et la la l'era di